Quindi Whirlpool, paio di pagine di presentazione, come diceva prima il professore questa mattina, io ho avuto un trailer importantissimo nelle ultime due serate perché c'è stato il film su Rai 1 di Mr. Ignis e il signor Ignis, il signor Borghi con la Ignis, è stato il fondatore della nostra azienda che poi fu acquistata da Philips e infine alla fine degli anni Ottanta da Whirlpool. Whirlpool in Europa, un paio di numeri, l'anno scorso abbiamo prodotto e spedito più di 12 milioni di pezzi abbiamo fatto 3 miliardi di dollari di fatturato, siamo presenti con produzione in 6 paesi e commercializziamo i nostri prodotti in più di 32 mercati in Europa, Medio Oriente e Africa. Per noi Sudafrica è anche parte di Whirlpool Europe. Siamo presenti con molti marchi che probabilmente conoscerete come consumatori, Whirlpool sicuramente famoso in Italia, Baunect più famoso nei paesi del nord e nei paesi di lingua germanica, KitchenAid che è un po' il brand nuovo che abbiamo lanciato alto di gamma e che è soprattutto famoso per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici e gli accessori che vedete qui disegnati e poi appunto alcuni marchi locali tipo Ignis in Italia. Io da gennaio ho preso questo ruolo di direttore di Total Rewards per Whirlpool in EMEA e quindi stiamo incominciando a strutturare e rivedere, rinfrescare quella che era la Total Compensation o la Total Rewards Strategy che abbiamo avuto finora, lavorando su paletti che sono abbastanza tradizionali quindi partendo dalla Business Strategy dell'organizzazione, lavorando su quella che noi chiamiamo People Excellence che sono le priorità della funzione HR sia a livello globale che a livello regionale e poi creando appunto la Total Rewards Strategy che alla fine altro non vuole essere che avere una politica per quello che è il salario base, quelli che sono tutti i premi di produzione bonus variabili, gli LTI per una certa popolazione quindi long term incentive, la reward and recognition quindi tutti i piani di gratificazione che vengono dati come extra e poi qui in fondo vedete i due spicchi benefits e healthworks. E qui quello che sto cercando di fare insieme al mio team è proprio quello di cercare di differenziare, abbiamo visto tante testimonianze nel corso della mattinata e del primo pomeriggio di come tante volte i benefits e welfare vanno a intersecarsi, vanno a sovrapporsi mentre altre volte stanno distanti e noi come Whirlpool abbiamo chiamato la parte che non è di benefit tradizionali healthworks e adesso vi spiego un attimo che cosa significa. I benefit tradizionali nella mia definizione di principi guida sono quei benefit che vengono dati a livello contrattuale che sono obbligatori magari anche per legge o che sono offerti come opt in opt out da parte dell'azienda con contratti integrativi. Ovviamente nel gestire i benefit tradizionali bisogna cercare di essere competitivi dal punto di vista costi e qui ovviamente lavorare con i vari broker internazionali soprattutto dal punto di vista delle assicurazioni mediche, delle assicurazioni previdenziali per poter a livello regionale, a livello globale fare economia di scala. Essere come abbiamo visto questa mattina intelligenti nel modo in cui si gestiscono i benefici fiscali che noi siamo presenti come dicevo prima in più di 32 paesi ci sono almeno 30 modalità diverse di gestire fiscalmente i benefit e poi quello che è stato ripetuto tante volte oggi comunicare e comunicare meglio perché tante persone soprattutto da una parte le persone che sono da più tempo in azienda che danno per scontato determinate cose e tante volte anche i nuovi assunti e le nuove generazioni non sanno nemmeno quello che hanno nel loro pacchetto perché ricevono il giorno 1 il pacchettone, il librone dei benefit e poi lo mettono nel cassetto. Le iniziative invece che in Whirlpool chiamiamo HealthWorks sono tutte quelle iniziative che sono complementari all'offerta benefit tradizionale cerchiamo anche dove possibile di fare leva su fondi governativi, bandi che sono disponibili non sono tantissimi perché ovviamente anche i vari governi in questo momento non hanno tanti tanti fondi a disposizione però ci sono, esistono, bisogna essere bravi a cercarli ovviamente poi bravi a strutturare il bando per poterlo vincere. Le iniziative di HealthWorks secondo noi in azienda sono anche quelle iniziative che creano responsabilità sociale da una parte ma anche che creano quell'employer branding di cui suppongo tutti noi come rappresentanti delle risorse umane andiamo alla ricerca quando vogliamo attirare nuovi candidati, nuovi potenziali talenti all'interno della nostra organizzazione. Essendo un'azienda metalmeccanica, essendo nel mondo del bianco un'industria un po' che è andata un po' su e giù in questi ultimi anni dal punto di vista del profitto, il mantra è quello che i costi devono essere minimi o devono essere zero e quindi implementare iniziative che siano interessanti, che raggiungano i bisogni dei nostri dipendenti ma che siano abbastanza a costo zero. Che però ci diano un look più contemporaneo che appunto facciano leva su quelle che sono i nostri principi di motivazione e anche i nostri valori aziendali. Le HealthWorks sono quelle iniziative che vanno bene per tutta la popolazione, non devono essere clasterizzate in determinate figure della popolazione o in determinate famiglie di lavoro. non devono essere concordate con il sindacato, anche se ovviamente il sindacato deve essere informato e come dicevamo stamattina è giusto e corretto collaborare, però sono quelle iniziative che veramente sono quasi naturali, che nascono, vengono incontro a dei bisogni e il sindacato alla fine non si oppone perché sono delle cose utili e di buon senso. E poi ovviamente portano un aumento dell'engagement, della soddisfazione e perché no magari anche della produttività. Noi abbiamo iniziato in EMEA alla fine del 2011, inizio 2012 con le iniziative HealthWorks. HealthWorks è un logo che viene dalla nostra casa madre americana. In America hanno iniziato a lavorare molto prima su questa tematica, soprattutto partendo dal fatto che come sapete in America il sistema assistenziale è un po' diverso rispetto all'Europa e quindi i costi delle assicurazioni private mediche sono molto alte, quindi si è iniziato tanti anni fa, Whirlpool ma anche altre aziende in America fare prevenzione per poter abbassare poi quelli che erano i costi delle assicurazioni mediche. Quindi noi abbiamo utilizzato lo stesso logo perché vogliamo essere un'azienda globale, però poi siamo andati a tarare con quello che vedete sotto, quindi quel piccolo sottotitolo. Nel 2012-2013 ci siamo focalizzati sulle attività balancing life, quindi conciliazione vita-lavoro, più un approccio paese per paese, quindi mercato per mercato. Da quest'anno, 2014, abbiamo aggiunto un nuovo sottotitolo che si chiama anche Living Healthy e quindi un pochino più di attenzione anche su tutta quella che è la parte di salute e di benessere che magari abbiamo dato per scontato nel passato ma che in realtà è ancora molto importante. E quello che vogliamo fare a partire di quest'anno è avere un approccio che sia il più possibile regionale, quindi a livello EMEA e non paese per paese. Mantenendo, come dicevo prima, anche però le particolarità e le differenzazioni che ci sono a livello dei vari paesi. Alcune iniziative che abbiamo fatto appunto tra la fine del 2011 e il 2013. Siamo partiti con iniziative molto piccole, queste sono più che altre iniziative sull'area varese dove abbiamo un grosso stabilimento, il centro direzionale europeo. Seminari sullo stress. Dall'inizio del 2013 abbiamo ogni settimana, davanti alla portineria del nostro centro direzionale, un mercatino della frutta e della verdura, chilometro zero, che viene il giovedì e sta per due o tre ore e ci sono persone, ci sono anche i nostri vicepresidenti che vanno a fare la spesa con la lista che probabilmente gli passa la moglie, quindi ha avuto molto successo, lo stiamo portando avanti, abbiamo appena ripreso dopo l'inverno. Era un delay, la sponsorizzazione del Giro del Lago di Varese, la sponsorizzazione e le collaborazioni con la Milano City Marathon, che sono tre o quattro anni che stiamo facendo, seminari, l'Avis, che diciamo le donazioni che sono più tradizionali anche un po' nel contesto italiano, e poi non da ultimo Check Your Numbers, che vuol dire controllo della pressione, controllo del peso, che abbiamo fatto nel 2012, e l'offerta del servizio gratuito di anti-influenzali, che abbiamo fatto nell'autunno scorso, nell'inverno scorso, nelle due sedi di Varese. Quello che vogliamo cercare di fare, un po' i principi guida, che vogliamo passare appunto a tutte le nostre sedi, è che quando si fanno iniziative di questo tipo, deve esserci il logo, e devono essere sotto il cappello di questo logo, devono essere clasterizzate in queste due iniziative di Balancing Life e di Living Healthy, e dobbiamo avere delle iniziative che sono a livello EMEA, quindi devono essere identiche in tutte le sedi, delle iniziative che sono a livello di Paese, in Francia ad esempio abbiamo un ufficio commerciale e una fabbrica, e tante volte fanno delle cose che sono completamente diverse, ed è giusto, magari a volte che siano a livello di sito, perché magari concordate col sindacato, o concordate con l'ente, il comune, la municipalità locale, però dobbiamo anche sponsorizzare di più iniziative che siano a livello di Paese. E ci deve essere una governance in tutto questo, con il mio team centrale, ma anche appunto coinvolgendo e utilizzando le risorse che ci sono nei Paesi che hanno tante idee. Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è la comunicazione, come dicevo prima, abbiamo iniziato nel primo trimestre di quest'anno a sviluppare questi volantini, che sono molto semplici, con la tematica Be Aware, quindi la consapevolezza, il primo che abbiamo fatto, lo vedete nel disegno, è sulla tematica dell'acqua e del bere, non so se c'è ancora il professore dell'IEO o se è già andato via, però anche noi stiamo cercando di dare questa consapevolezza, perché è importante, ripeto ancora una volta, si danno tante cose per scontato e non è così. E l'altro leaflet che invece abbiamo sviluppato è sul tema del get moving, avvicinandosi alla stagione primaverile estiva, di che cosa vuol dire fare movimento, fare sport, e perché è importante farlo. E continueremo nel corso dei prossimi 6-8 mesi con delle altre iniziative sempre all'interno di queste due tematiche. Un'altra cosa che stiamo facendo dal punto di vista comunicazione è creare un calendario, perché tante volte queste iniziative che si fanno sembrano sempre iniziative ad hoc, piccoli eventi che poi ci si dimentica. Vogliamo invece creare un calendario che dia anche un po' di, da una parte, continuità, ma anche previsione e pianificazione di quello che stiamo andando a fare. Altre iniziative che abbiamo sviluppato nel corso della prima metà di quest'anno, come dicevo prima, stiamo cercando di far leva anche su fondi governativi. Nel 2012, fine 2012, abbiamo vinto un bando con il Ministero delle Politiche Sociali che vale su un periodo di due anni e mezzo, quindi 2013-2015. E qui abbiamo sviluppato tre progetti. Uno è un contributo ai nidi aziendali, non nidi aziendali, a nidi comunali all'interno delle tre municipalità che sono dove abbiamo i nostri stabilimenti che è il nostro centro direzionale. Un altro è un corso che abbiamo fatto con un fornitore esterno a supporto alle donne che rientrano dalla maternità, ma anche a padri che magari sono stati in congedo paternità o comunque magari lunghi infortuni o lunghe malattie. Quindi abbiamo disegnato un corso che è fatto con le persone e poi anche dei gettoni di counseling individuale con un consulente esterno che aiuta le persone che rientrano dopo un lungo periodo a ribilanciare quelle che sono le priorità del lavoro con le priorità della vita familiare. Fantastic Wow è invece il campo estivo che abbiamo organizzato l'anno scorso e proprio penso oggi o domani mattina viene lanciato per il 2014. Abbiamo lanciato anche un campo pasquale nel mese di aprile che però ha avuto praticamente successo zero perché abbiamo avuto solo otto genitori che hanno iscritto dieci bambini e quindi poi alla fine non lo abbiamo organizzato. Un'altra cosa sempre parlando di quello che diciamo anche lo Stato intorno a noi e le società intorno a noi fanno esiste questo programma che si chiama ENWHP che significa le aziende che promuovono la salute che è sponsorizzato e nato dall'ASL di Bergamo e adesso è diventato certificato dalla regione Lombardia e quindi noi lavoriamo in collaborazione con l'ASL di Varese e io ho fatto anche i complimenti alle dottoresse dell'ASL di Varese quando sono venute perché hanno addirittura il materiale in inglese e non avrei mai pensato che l'ASL producesse materiale in inglese e invece ci sono stati fatti tanti progressi appunto loro dicevano hanno bisogno di aziende che vogliano collaborare perché loro hanno tante idee e tanti strumenti ma poi non hanno nessuno che li ascolta dall'altra parte e noi come aziende magari abbiamo tante idee ma pochi strumenti avremo bisogno di qualcuno che invece ha la competenza e che può venire a supportarci a fare partnership con noi quindi abbiamo deciso di iscriverci a questo accreditamento che è un percorso di tre anni che appunto abbiamo iniziato quest'anno e che fa sì che se si completano una serie di attività due all'anno all'interno di quello che è il loro framework si riceve poi appunto questa certificazione NWHP altre iniziative che abbiamo fatto a livello EMEA che hanno ricevuto anche un po' di ritorno dal punto di vista della stampa soprattutto locale abbiamo lanciato l'idea che non è un'idea così nuova ma nuova per Whirlpool del parcheggio rosa e quindi dedicare un paio di parcheggi vicino agli ingressi e vicino alla portineria per le donne incinto in stato di attesa e quindi per facilitare quello che è magari il percorso visto che alcune volte i parcheggi sono molto lontani soprattutto nel periodo invernale un'altra iniziativa che abbiamo lanciato visto che in Lombardia in provincia di Varese c'è questa regola delle gomme invernali delle gomme estive e un'iniziativa che è nata come diceva prima la dottoressa Lupi da una piccola cosa una mia collaboratrice l'inverno scorso era disperata perché non riusciva mai a trovare due ore per poter andare a cambiare le gomme il marito era fuori aveva tre bambini insomma aveva una serie di cose e quindi quest'anno con la primavera quindi tra marzo e aprile abbiamo organizzato in convenzione con un paio di carrozzieri di gommisti della provincia di Varese il servizio per cui ci si prenota si lascia la macchina in portineria in Whirlpool arriva un addetto del gommista ritira l'auto cambia le gomme la riporta indietro da ritirare o alla fine della mattina o alla fine della serata e quindi è un piccolo servizio che abbiamo ovviamente come si può dire concordato un prezzo scontato rispetto a quello che era il servizio normale visto i numeri e il volume però allo stesso tempo la convenienza non era tanto il prezzo ma la convenienza di arrivare e lasciare la macchina lì non preoccuparsi lasciare dentro le chiavi e tornare alla sera avere le gomme le gomme stive e poi il nostro programma VIP che invece lavora su tutto quello che sono le convenzioni con nostri partner quindi i nostri fornitori e che anche noi diamo poi come possibilità di associarsi per utilizzare sconti con i nostri elettrodomestici ad altre aziende che sono parte del nostro network di fornitori e di partner di consulenti altre iniziative che è interessante ho sentito anche alcuni altri colleghi citare Winning Workplace che significa per noi tre cose la prima è ridisegnare gli spazi e quindi questo concetto degli open space che penso sia un trend abbastanza comune l'ho sentito già due volte questa mattina il concetto di dotare più persone possibili più dipendenti possibili negli impiegati di smartphones e quindi la possibilità del lavoro potenzialmente in ogni momento e il terzo concetto che ancora invece non siamo riusciti a implementare che è quello dello smart working quindi del lavoro dovunque e in qualunque momento che però appunto per il momento dal punto di vista culturale quello che diceva anche il collega questa mattina è la cosa forse più più difficile per me gli strumenti ci sono ma l'approccio anche se siamo un'azienda americana non è così semplice implementarlo perché facciamo tutto questo perché facciamo healthworks allora sicuramente vogliamo poter tendenzialmente vincere degli awards quindi dei riconoscimenti esterni migliorare la nostra indagine di clima aziendale annuale diminuire il turnover rate se possibile non è altissimo da noi però tenerlo sotto controllo come dicevo prima aumentare l'employer branding mantenere invece i costi diciamo invariati rispetto a quelli che abbiamo avuto finora e se possibile appunto vincere anche dei bandi e dei fondi governativi quali sono negli ultimi due minuti e 27 secondi le sfide le problematiche che incontro nel mio lavoro alcune le abbiamo già sentite la prima cosa è il global leverage nel senso che siamo un'azienda globale sembrerebbe facile ricevere documentazione tutte le settimane dalla nostra casa madre americana non è proprio sempre così tante volte bisogna chiedere bisogna estrarre quelle che sono le cose perché si fa ancora fatica a pensare che si pensa più al benefit e si dice benefit comunque le altre regioni sono completamente diverse e quindi non si condivide l'healthworks invece ha la possibilità veramente di essere un qualcosa di globale non solo globale ma anche european approach perché poi l'essere appunto il potere implementare delle iniziative nello stesso momento in maniera parallela in tutte le sedi non è così facile parte di tasse e di fiscalità ne parlano poi anche i colleghi tra qualche minuto l'employee reactions perché poi appunto quello che vi dicevo prima abbiamo lanciato il campo pasquale e non è interessato a nessuno quindi non sempre poi quello che si fa è interessante il ritorno dell'investimento che bisogna ancora misurarlo ecco stamattina magari e oggi pomeriggio non abbiamo parlato tantissimo forse solo in un intervento di quello che è il ritorno poi misurabile cioè voglio lanciare queste iniziative come faccio a farmele approvare devo poter dimostrare un ritorno di produttività che non è così semplice e poi il concetto dello smart working che dicevo prima grazie 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 a tutti